Presentato a Muggia un'altra serie di appuntamenti dopo il Muggia Cabaret fatto dall'amico Gilleri invece oggi è stato presentato un po' la parte, quella più strana, dai, a parte l'armonia e tutta una serie di cose abbiamo beccato l'armonia perché un'amica insomma l'avete già tante volte ospite da noi insieme anche alle altre commedie allora che cosa avete preparato voi e non solo voi per gli amici di Muggia per questa nuova stagione? Una stagione molto articolata, l'armonia quest'anno sarà presente con dieci commedie, dieci commedie in dialetto triestino tratte dalla nostra stagione, sia la passata che quella di quest'anno e vari appuntamenti a iniziare da domenica 26 ottobre per quanto riguarda l'armonia con Jack Calcagno, un americano a Trieste però il debutto del cartellone di Muggia con gli appuntamenti extra Muggia Cabaret iniziano già domenica 19 ottobre con la venexiana del CRUT Università di Trieste e gli appuntamenti si alterneranno fra teatro, musica e varie occasioni tutte organizzate sotto legge del comune di Muggia, dell'assessorato alla cultura fino alla fine di aprile Senti che ti chiedo, diamo una bella notizia, posso votare il Festival di Veninchi? Si fa? Esatto, si farà la 22esima edizione del Festival Internazionale Veninchi Teatro nei dialetti del Triveneto e dell'Istria al Teatro Miela è un'opportunità concessa grazie al bando degli eventi della regione vinto dall'armonia che ci dà modo, spazio e ossigeno per completare tutto il ciclo di appuntamenti previsti per questo 2014 e questo Festival, la novità di quest'anno è che sarà interamente gratuito per tutti gli abbonati della trentesima stagione del Teatro in dialetto triestino Per gli altri non è che spendete un miliardi Per gli altri un biglietto a prezzo popolare, senz'altro abbordabile a tutte le tasche però c'è questo cadò, questo omaggio che vogliamo fare in più ai nostri abbonati grazie appunto alla regione Ultima domanda, so mi hanno detto, anzi basta si vede col sorriso mi pare che i testini abbiano risposto abbastanza bene, anzi molto bene per questa trentesima stagione dell'armonia se c'è ancora un po' di tempo per abbonarsi, come sta andando? Sta andando bene, abbiamo raggiunto e superato la quota dell'anno scorso Facci il numero perché è facile dire E beh, tra gli abbonati, quelli soliti, tra le scuole, tra i circoli, tra gli inviti anche gli inviti, omaggio e cortesia che noi facciamo a varie realtà triestine non vorrei dire ma forse che quest'anno chiuderemo di nuovo vicino ai mille siamo ancora un po' distante, però siamo sulla buona strada importantissime le scuole, stanno rispondendo, ci sono gruppi di scuole e perciò di classi, delle classi medie, delle superiori che si stanno abbonando all'armonia e questo ci fa un immenso piacere Sono ancora dieci giorni circa, non è il tempo per abbonarsi? Sì, adesso abbiamo ancora questo fine settimana di spettacoli fuori abbonamento c'è Alessio Colauti con Triestinamente, venerdì, sabato e domenica al Teatro Sivio Pellico e poi dal 24, primo spettacolo in abbonamento il Gabbiano, forse che sì, forse che no e da lì e da lì la campagna abbonamenti si chiuderà perciò ancora due settimane quasi buone per raggiungere un numero magico Scusa, perché il Gabbiano e non il Cocay? Il Cocay, il Cocay Grazie